Brutta serata per Pallacanestro Biella. Nella sala stampa della Palavanca di Piacenza, coach Zanchi punta il dito contro gli acciacchi di Esbruck e le tante partite ravvicinate. Ma il netto 76-57 non si può ridurre solo a questo. Innanzitutto va sottolineato che l'assigeco di Americano ne ha schierato solo uno, perché i guai fisici di Philippe Kerr evidentemente sono molto più seri, ma tra le due squadre corre un ampio divario tecnico, atletico, di tattica ed esperienza, che non si può colmare se non con una giornata incredibilmente storta. Poi il calendario intenso vale anche per Piacenza, attesa breve da un viaggio in Sicilia. Pollone e compagni reggono bene il colpo per i primi 15 minuti. L'ultimo vantaggio laniera lo firma un coraggioso porfiglio sul 24-25. Poi l'assigeco mette la freccia nel successivo quarto d'ora in campo, se assistito allo spettacolo di inizio anno. Coach Zanchi, pensando all'impegno di domenica a Cantù, fa riposare l'acciaccato Esbruck. Solo tre punti per lui, ma anche cinque assist, perché la classe non è acqua. Ma la carta d'identità dice purtroppo 35 alla statistica degli anni d'età. In panchina anzitempo si siede anche Steven Davis, regredito alla sua peggior versione di inizio stagione. Uno su undici per lui al tiro. Un solo canestro dal campo in 30 minuti. Per il rosso-blu prestazione sufficiente per Bertetti. 15 punti con sane percentuali di tiro e morgillo. 13 e 10 per il lungo campano, bravo se non altro, a reggere all'uragano Guariglia, che all'andata aveva organizzato un picnic nei pitturati del forum. Piacenza ha tante cose che Biella non ha. Due su tutte, un play e un pivot di alto livello. Di Guariglia si è già detto, 7 punti e 14 rimbalzi, comunque solo tre, in meno rispetto all'andata. Ma soprattutto Gerardo Sabatini. 27 punti e 7 assist con 5 su 7 dalla linea dei tre punti. Si divide la scena con Gabe DeVoe, 26 punti, con qualche forzatura, ma con la sensazione di poter segnare sempre. Partita solida per il buon Dada Pascolo. Chiaramente l'ombra di ciò che è stato, ma comunque in grado di mettere 6 punti e 8 rimbalzi a referto. Ma io, forse crederete che io vivo nelle stelle, ma io ho detto ai miei ragazzi che giocando una partita del genere, senza praticamente i due americani, e venire qui contro una squadra forte, che finisce con i migliori 5 in campo, noi abbiamo giocato l'ultimo periodo con i ragazzini, visto che giochiamo di nuovo domenica, e subire 76 punti vuol dire che abbiamo fatto fatica e che abbiamo giocato una partita. Non buona, perché loro sono stati i migliori di noi, ma sicuramente abbiamo giocato e abbiamo continuato a lottare. Visto che la nostra stagione non è di talento, non è di esperienza, non è di soldi, non è di stazza, è di voglia, di lotta e di lavoro insieme. Quindi anche questa sera, nelle difficoltà, giocando una partita non bella, ma abbiamo lottato contro una squadra che ci è superiore, nelle difficoltà. Quindi anche da questa sera dobbiamo trovare il positivo. È chiaro che poi analizzeremo tutto il resto e speriamo di recuperare dei giocatori che per noi sono fondamentali e che oggi purtroppo non ci hanno potuto aiutare. Siamo molto contenti di questa vittoria, fa parte del nostro processo di crescita, vogliamo raggiungere i play-off in una buona posizione, perché siamo una buona squadra che gioca insieme, si diverte passandosi la palla. Una menzione particolare al nostro staff che ha preparato molto bene la partita, coach Salieri, quindi è una vittoria del gruppo e da domani si pensa a Trapani. Abbiamo preso due punti importanti. Questa era una partita che temavamo, perché Biella è una squadra che gioca una pallacanestro molto piacevole, molto aggressiva e sapevamo che se non tenavamo noi il controllo dei ritmi, e soprattutto se non avessimo fatto una partita importante in difesa era una partita che aveva tantissimi insidie. Biella è una squadra che è cresciuta tantissimo e faccio i complimenti a loro perché veramente hanno fatto un grande lavoro. Abbiamo un attimo anche subito il loro ritmo, la loro aggressività, però siamo stati bravi a tenere sempre la partita sui canoni giusti, pur non facendo tanto canestro e questo ci sta. I ragazzi stanno facendo tutti un grande lavoro e questa è la cosa più importante.